bella a tutti forniters in questo video benvenuti su leon tube andiamo a vedere come fare la missione degli incarichi di dragon ball dell'addestramento resistenza ci sono due missioni da fare raccogli capsule sull'isola delle avventure di dragon ball raccogli una sfera del drago sull'isola dell'avventura di dragon ball dobbiamo mettere quel numero di isola che vedete lì 17 78 30 92 25 41 andiamo premiamo il nostro pulsante vedete il relativo lì abbiamo scritto creativa dobbiamo andare nella creativa quindi premete il vostro pulsante della vostra console del vostro pc una volta che siete qua vedete selezionate qui creativa cercate probabilmente qui tra le prime ma potete andare a cercarla anche qua giù eccola qua creativa vedete nelle nella fase di epic se la selezionate tornate indietro facciamo gioca e aspettiamo che viene caricata la maschera e entriamo in gioco quindi eccoci qua ci ritroviamo in questa pagina in questa pagina quindi questa fase qua andiamo qui imposta codice match match in quanto trovate uno di questi premiamo y e dobbiamo mettere il codice che avevamo visto prima che è 17 78 30 92 25 41 così entriamo direttamente nell'isola che ci riguarda poi ce la ritroveremo tra le recenti allora isola non trovata che cosa ho sbagliato 17 78 30 92 25 41 isola non trovata da un errore allora andiamo un po' a vedere un attimo andiamo un attimo indietro andiamo direttamente qui da dragon ball 17 30 92 e non va ci deve essere qualche qualche problema ma proviamo però no è da qui che si fa quindi riproviamo un attimo 17 78 30 92 25 41 ci da gli spazi in automatico andiamo un po' un attimo ok ci da gli spazi in automatico riproviamo isola non trovata niente quindi non possiamo farlo non possiamo farlo e lo vedremo più avanti ok niente praticamente l'isola in questo momento non è disponibile e quindi non ci resta che aspettare che venga riabilitata l'isola o rimessa l'isola per poter completare le missioni probabilmente in questi giorni la rimetteranno perché l'evento di dragon ball schiade tra due settimane diciamo con 11 giorni e quindi nessun problema e ok appena avremo notizie ve lo comunicheremo ci vediamo presto mi raccomando continuate a seguirci un bel like iscrivetevi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti soprattutto questi qua soprattutto questi qua dove dobbiamo mettere il codice un saluto a tutti ciao 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 ciao